10.000 alunni nell'ambito dell'anno scolastico utilizzano il servizio di trasporto in 45 dei 47 comuni della provincia di Teramo. Sono 200 i pulmini che si muovono sul territorio con una vetusta media di 16 anni, dato superiore alla media del trasporto pubblico locale e solo l'1% di essi a meno di 5 anni. Nell'80% dei comuni è prevista una compartecipazione al servizio con prezzi che oscillano tra i 20 e i 180 euro, mentre nel capoluogo Teramo si può arrivare anche a 360 euro l'anno. Sono alcuni dei dati che emergono dall'indagine condotta dalla CGL sul trasporto scolastico in provincia di Teramo, un rapporto in chiaroscuro dove la zona d'ombra è rappresentata soprattutto dalle gare d'appalto e dalle modalità di erogazione del servizio da parte delle ditte. Sono dei dati molto interessanti, intanto l'affidamento attraverso le gare viene fatto con un criterio solamente al massimo ribasso. È chiaro che quando fai un appalto al massimo ribasso e assegni un servizio è chiaro che poi ci sono delle difficoltà anche a riguardo la sicurezza dei bambini e soprattutto a riguardo anche le problematiche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori stessi. Vorremmo approfittare di questi dati, di questa mole di dati che abbiamo raccolto anche per dare origine ad un osservatorio che focalizzi maggiormente l'attenzione su questo servizio. Infine un'altra proposta che lanciamo è quella di dare origine a degli appalti in ambito provinciale. Oggi i comuni, i tanti comuni che danno origine a questo servizio agiscono tutti per proprio conto. Si potrebbe iniziare a pensare ad una rete di trasporto scolastica di livello provinciale attraverso convenzioni tra i comuni e con la provincia. Nella minore delle ipotesi noi potremmo fungere da stazione appaltante per i procedimenti di gara. Nella migliore delle ipotesi potremmo pensare anche a organizzare una rete di trasporti di scuola bus integrata su più comuni.